Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Ci troviamo al D'Agostini Lab, io sono Alessandro e siamo in compagnia del mitico Fabrizio da Padova. Mitico è un po' poco, di più. Ciao a tutti ragazzi. Sua maestà, sua maestà. Abbiamo oggi appunto Fabrizio perché in questo caldo fine giugno stiamo vedendo una novità di Kef. Nello specifico il prodotto che vedete accanto a me è la Reference 5, quindi la più importante del catalogo Reference di Kef, quindi la 5, c'è una 3 che è una più piccola da pavimento e una 1 che è una bookshelf, nella nuova versione con l'inserimento del metamateriale. Quindi Fabrizio, Reference come abbiamo già spiegato ma lo ripeterei velocemente, è un riferimento proprio, non è un nome dato a caso da parte di Kef, e l'inserimento del metamateriale che è la novità è più importante per Kef ovviamente. Sì, è stato un momento di svolta per Kef, ha fatto tanta differenza questa idea di mettersi in collaborazione, sono molto intelligenti, lo dice il mondo e lo dicono i risultati, perché hanno iniziato una collaborazione con un'azienda che lavora appunto i metamateriali. I metamateriali brevissimamente sono materiali che non esistono in natura e vengono costruiti, vengono realizzati con uno scopo, per un fine. In questo campo nell'audio il concetto è che se utilizzo il legno devo adattarmi alle caratteristiche del legno, se uso il marmo devo adattarmi alle caratteristiche del marmo, ma se voglio ottenere un risultato devo creare qualcosa che faccia quella funzione. In questo caso Kef ha collaborato con la Metamaterial Acoustics Organization, non ho idea scusatemi, una grossa azienda che lavora proprio su questo territorio, su questo terreno del metamateriale per sviluppare una camera di decompressione per il Twitter, ovvero la parte posteriore del Twitter, che permette di eliminare numeri veri e numeri alla mano, il 99 per cento delle distorsioni o delle spurie o delle indesiderate, come amo chiamarle io, per rendere il Twitter più trasparente, più chiaro, più definito e quindi più reale all'ascolto. È stata una svolta epocale per Kef e per il mondo dell'audio. Possiamo dirvi che LS50, Meta sono state le prime ad essere rilasciate con i metamateriali, hanno fatto una grandissima differenza già rispetto alla ottima precedente, per poi arrivare alla serie Reference. Le hanno appena rilasciate, appena iniziata la produzione, queste sono le primissime che arrivano, abbiamo avuto i primi arrivi in azienda, ne abbiamo parlato un pochino, abbiamo spiegato qualcosa. La grande novità su questa nuova versione di Reference risiede soprattutto nella geometria, nella ultima versione dell'UniQ, della dodicesima edizione appunto. Siamo alla massima espressione dell'UniQ, che è il brevetto iconico di Kef, l'altoparlante concentrico, in fase coerente, che lavora come fosse un tutt'uno, un unico altoparlante. Con l'aggiunta dei metamateriali la precisione è aumentata tantissimo, il dettaglio è aumentato di molto, spostando veramente in alto l'asticella, ovvero rendendo questo diffusore un diffusore autorevole, uno di quelli che dal mio punto di vista un pochino quasi spaventa molte volte ci sono dei passaggi di alcuni brani che riascoltati, che sono nella nostra memoria magari, ma riascoltati con questo diffusore in un ottimo abbinamento, come Hegel ad esempio, è una partnership ormai conclamata, escono fuori dei dettagli e delle cose veramente inaspettate, posso dire inaspettate, e queste sono sensazioni che fanno bene alla musica, fanno bene a noi perché stimolano l'ascolto e ci fanno capire qualcosa in più. Quindi ci danno un motivo per riascoltare la nostra amata musica. E' divertente quando una cosa ti appassiona così tanto e ti riascolti tutta la tua discoteca, no? Ti vai a vedere tutti i dettagli, le sfumature, ti riascolti e ti riascolti e riascolti. Il bello è parlare con gli appassionati e dire ho riascoltato i miei dischi, non avevo sentito prima, stamattina stavo parlando, scusate di un aneddoto, ma una persona dice ho riascoltato delle cose che non pensavo ci fosse quella distorsione e sono riuscito ad ascoltarla. E questo è bellissimo perché dà soddisfazione, che è la cosa più importante, quella che cerchiamo quando ascoltiamo la musica. La linea reference costruita interamente in Inghilterra viene fatta su richiesta, ogni volta che viene ordinato un prodotto, un ingegnere assembla tutto, assembla nel vero senso della parola, cioè ha il sacchetto dei condensatori e delle bobine, deve saldarle sulla basetta del crossover, già da lì si parte da lì, per realizzare un prodotto che viene poi confrontato con l'originale e se è identico all'originale, questo significa riferimento reference, a quel punto può essere rilasciato e può essere spedito. Questo significa che ogni prodotto reference di KEF suona esattamente come KEF ha deciso che il reference deve suonare. Non è un prodotto simile, non è un prodotto di massa, non è un prodotto costruito in serie, è un prodotto costruito seguendo degli standard assoluti che permettono di portare a casa esattamente la cassa KEF ha costruito e tiene ferma come riferimento all'interno della sua azienda, a Maidstone. Bello no? Eh beh, è benissimo, è bellissimo, l'emozione di vedere questa passione, questa passione. Molto emozionante, molto bello, un'azienda che appunto dopo 60 anni di attività ancora ha questo spirito, ha questa voglia di cambiare, di evolversi, è sicuramente molto interessante, come sono molto interessanti questi diffusori. Ovviamente non facciamo un ascolto con il video come ogni tanto viene fatto, assolutamente, almeno io non credo in questa filosofia, ma vi invito a venirvi a prendere un caffè, a bere una cosa assieme, tenere una cosa fresca visto il caldo che sta facendo in questo periodo e ci ascoltiamo insieme un po' di musica. Assolutamente sì, meritano un ascolto, non ascoltarle sarebbe sbagliato, indipendentemente dalla possibilità di intenzione o meno, ma sono quegli oggetti che fanno veramente la differenza, quindi vanno, meritano un ascolto e sottovalutarle sarebbe sbagliato, in tutti i sensi, per avere anche un riferimento, per capire come può suonare un diffusore di questo livello. Beh, con questo bellissimo invito fatto da Fabrizio, non resta altro che salutarvi, grazie per la location, io ovviamente sono di parte, non lo dico, però questo insomma è come un figlio, è fattuale, direbbe sempre fattuale. Esatto, esattamente. Niente, quindi appunto per il nuovo l'invito a venirci a trovare, a ascoltare insieme questi bellissimi prodotti, grazie ancora a Fabrizio che ormai è una rock star, meglio di Mick Jagger al San Siro, uno che suole strimpella che canta così, un ragazzetto che ancora zompa sul palco come un grillo. Grazie ancora e a prestissimo. Ciao a tutti, buona musica.